Sono state presentate alla sassaia di Ricutino le due ultime pubblicazioni di Santino Gallorini, La memoria riunita, il partigiano Renzino e Civitella, tra bugie, silenzi e verità, e Vite in cambio, Gianni Mineo, il partigiano infiltrato che salvò dalla strage la popolazione della Chiasa. Lo stesso giorno, il 29 giugno 1944, avvengono due vicende molto significative. Da una parte la strage di Civitella e alla Chiasa c'è una mancata strage, 209 ostaggi che stanno per essere fucilati ma alla fine vengono salvati dal partigiano Mineo. Civitella verrà accusato di aver provocato la strage un altro partigiano, Renzino, e per cui diciamo che il dibattito è stato proprio mettere a confronto le due vicende e le due figure partigiane e cercare di capire che cosa non ha funzionato a Civitella e che cosa invece ha funzionato alla Chiasa. Ovviamente la personalità dei due partigiani è differente, ma anche le vicende sono differenti perché da una parte c'era un colonnello che era stato rapito ma era vivo e per cui si poteva riconsegnare e a Civitella invece c'erano altre situazioni che era difficile ormai tentare di recuperare. In più, la cosa principale dal mio punto di vista è i reparti tedeschi che operavano nelle due zone. A Civitella c'è l'Hermann Goering che è un reparto molto politicizzato e si è macchiato di tante stragi, a cominciare da Vallucciole per finire a Castelnuovo de Sabbione e Meleto, mentre lì alla Chiasa c'è un reparto ma c'è anche un colonnello, il colonnello von Gablens, un barone, viene da una famiglia con tradizioni militari prussiane, e diciamo è un gentiluomo e per cui rispetta i patti e riesce insomma a far liberare poi tutti gli ostaggi una volta che lui sarà riportato da Gianni Mineo lì alla Chiasa.